...di ritorno, riprendiamo qui sempre ricordando la situazione dei campi in collegamento che sono nell'ordine Torino, Milano, Firenze, Roma... ...il Parma, scusami... ...Novara e Glecce, Torino... ...scusami, il Parma in gol al primo minuto, la prima azione poco fa, Giovinco ha messo il parone in rete, quindi chievo zero, Parma uno.